Amici, buongiorno e ben ritrovati. Se vi ricordate qualche giorno fa vi ho fatto vedere la acqua e vi ho fatto vedere com'era la colorazione interna e l'esterno. I frutti che adesso vedete alle mie spalle sono invece della varietà parfianca. Come vedete già i frutti sono più grandi ed è una caratteristica tipica della varietà. La parfianca ha frutti del peso di circa 550-700 grammi, mentre la acqua ha frutti di dimensione e di calibro decisamente più piccoli. Il colore, logicamente quello della parfianca, è sempre rosso acceso ed è ancora sempre in ritardo rispetto alla maturazione completa e comunque sia pronta nel mese di ottobre. Vediamo comunque adesso il colore della parfianca. Prendiamo questo frutto. La colorazione ancora logicamente non è uniforme e vediamo come è all'interno. Il sapore della parfianca è un po' più acida rispetto all'acqua e meno acida rispetto alla wonderful. Colorazione rossa ma ancora vediamo che l'arillo non è colorato uniformemente di rosso, quindi non mi aspetto che sia né dolce ma sentirò molta acidità. Lo spessore dell'albedo grosso modo è come quello dell'acqua. E questo qui è la parfianca che non è ancora a maturazione, quindi però lascia comunque capire quella che sarà poi la colorazione finale, un rosso acceso uniforme. Beh, vi aspetto quindi il mese prossimo. Io nel frattempo assaggio qualcosa. Ciao!